Ogni dosso di quello sterminato mare di neve era uguale all'altro. Sotto lo spolverio bianco che si levava da ogni sommità si vedeva sempre lo stesso panorama, una distesa di onde bianche identiche senza fine. Il sole saliva lentamente nel cielo e faceva sempre più freddo. Non si sentiva altro rumore che gli zoccoli dei cavalli e il fruscio dei pattini e il soffio del vento che fischiava appena tra i finimenti. Le slitte non lasciavano traccia sulla neve ghiacciata. Di tanto in tanto Almanzo si girava e Cap scuoteva la testa. Non si vedeva nessun filo di fumo all'orizzonte. In cielo il sole piccolo e freddo sembrava immobile. Invece saliva, implacabile. Le ombre si riducevano, le onde e i dossi della prateria si appiattivano. Ora il deserto bianco appariva piatto, vuoto e muto. «Quanto andiamo ancora?», gridò Cap. «Finché troviamo il frumento», rispose Almanzo. Ma cominciava a dubitare che in quel deserto ci fosse davvero qualcuno. Ormai il sole era allo zenith. Metà della giornata se n'era andata. A nord-ovest il cielo non mostrava segni preoccupanti, ma era raro che tra una tempesta e l'altra ci fosse più di un giorno di intervallo. Almanzo sapeva che sarebbe stato saggio tornare. Saltò giù dalla slitta e si mise a correre per scaldarsi. Detestava l'idea di dover dire al paese affamato che erano tornati a mani vuote. «Quanta strada abbiamo fatto, secondo te?», chiese Cap. «Una ventina di miglia», disse Almanzo tirando a indovinare. «Dobbiamo tornare?» «Chimola è perduto», disse Cap allegramente. Si guardarono attorno. Si trovavano sulla sommità di un dosso. Se non ci fosse stato il brillio del pulviscolo, che creava come una foschia baluginante rasoterra, avrebbero potuto vedere a venti miglia di distanza. Ma le ondulazioni della prateria, che nel sole apparivano più piatte di quello che erano, nascondevano il paese laggiù a nord-ovest. Il cielo, comunque, da quella parte era sgombro. Battendo i piedi e picchiandosi le mani sul petto, scrutarono da est a ovest e a sud fin dove arrivava la vista. Non si vedeva nulla. «Da che parte prendiamo?», chiese Cap. «Oh, da una parte o dall'altra fa poca differenza», rispose Almanzo. Ancora una volta si riavvolsero la sciarpa intorno al viso. Il fiato l'aveva riempita di scaglie di ghiaccio ed era ormai difficile trovare un angolo asciutto che alleviasse il dolore a contatto con la pelle scorticata dal gelo. «Come vanno i piedi?» «Non dicono nulla», rispose Cap. «Forse è meglio che corra un po'. «Anch'io», disse Almanzo. «Ma se non si riscaldano dobbiamo fermarci a strofinarli con la neve. Prendiamo a ovest sul filo di questo dosso per un tratto. Se non troviamo niente possiamo fare il giro da sud e tornare indietro di là». «Sta bene», disse Cap. I loro ottimi cavalli ripresero il trotto di buon grado e loro due si misero a correre accanto alle slitte. Il dosso finì prima di quanto si aspettassero. Si trovarono su un pendio che digradava verso un bacino pianeggiante fino a poco prima nascosto dalle ondulazioni del terreno. Aveva tutto l'aspetto di una palude. Almanzo mise Prince al passo e montò sulla slitta per dare un'occhiata. Il bacino si allungava verso ovest. Non c'era modo di aggirarlo se non tornando indietro per riportarsi sul terreno più alto. Poi, in fondo, al di là della palude, gli parve di vedere una macchia grigio-marrone in mezzo agli sbuffi bianchi che si elevavano dalla sommità di una scarpata di neve. Fermò Prince e gridò «Ehi, Cap! Non sembra fumo quello laggiù?». Anche Cap lo aveva visto. «Sembra che venga fuori da una scarpata». Almanzo riprese a scendere il pendio. Dopo qualche minuto gridò «Sì! È fumo! Ci deve essere una casa!». Per raggiungerla dovevano attraversare la palude. Nella fretta Cap gli si affiancò. Un attimo dopo, il sauro era finito in un buco. Il più grosso che avessero trovato quel giorno. Intorno ai bordi la neve continuava a crollare nelle sacche d'aria sottostanti. Sembrava non dovessero uscirne più. Ci volle del bello e del buono per tirar fuori il cavallo e riportarlo sul terreno solido. Intanto il tempo passava. E quando ripresero il cammino, le ombre avevano cominciato a spostarsi a est. Il filo di fumo si levava effettivamente da una lunga scarpata di neve. Intorno non c'erano tracce di sorta, ma quando girarono il dosso e vi arrivarono da sud, videro che c'era una porta nella scarpata e che lì davanti la neve era stata spalata via. Fermarono le slitte e chiamarono. La porta si aprì e sulla soglia comparve un uomo che li guardava sterrefatto. Aveva i capelli lunghi e la faccia seminascosta da una gran barba che saliva fino agli zigomi. «Salve! Salve!» si mise a gridare. «Entrate! Entrate! Ma da dove, diavolo, venite? E dove andate? Entrate! Vi fermate qui! Entrate!» Era così eccitato che non aspettava le risposte. «Dobbiamo sistemare i cavalli prima», disse al manzo. L'uomo si infilò al volo un giaccone e venne fuori dicendo «Per di qua! Per di qua! Seguitemi! Ma da dove venite?» «Siamo partiti stamani dal paese», rispose Cap. L'altro li condusse fino a una porta in un'altra scarpata. Nel frattempo si erano presentati. L'uomo si chiamava Anderson. Sistemarono i cavalli in una stalla sotterranea scavata nel pendio. Era piccola, ma calda e confortevole. In fondo c'era un tramezzo di tavole in cui si apriva una porticina e l'intorno sul pavimento c'erano dei chicchi di frumento scivolati fuori da una fessura. Al manzo e Cap li notarono e si scambiarono un'allegra occhiata d'intesa. Abbeverarono i cavalli, attingendo l'acqua dal pozzo accanto alla porta. Dettero loro dell'avena e poi li lasciarono legati, davanti alla mangiatoia piena di fieno, accanto alla pariglia di Morelli che occupava la stalla. Anderson li condusse nella sua abitazione, sotto la scarpata di neve. Era costituita da un'unica stanza col soffitto basso, fatto di pali e tavole coperti di fieno e incurvate dal peso della neve soprastante. Le pareti erano di terra. Anderson lasciò la porta aperta perché entrasse un po' di luce. Non ho spalato la neve dalla finestra dopo l'ultima tempesta, disse. La neve si accumula su quel piccolo dosso a nord-ovest e mi seppellisce completamente, così mi tiene al caldo. Mi serve pochissimo combustibile qua dentro. Le case sotterranee sono le più calde che ci siano, si sa. La stanza era calda, infatti, e umida di vapore per il bollitore che gorgogliava sulla stufa. Su un rozzo tavolo costruito contro il muro era apparecchiato il pranzo. Anderson li invitò a mangiare con lui. Non vedeva anima viva da ottobre, quando era stato in paese l'ultima volta a prendere quello che gli serviva per l'inverno. Almanzo e Cap si misero a sedere e si servirono con appetito di fagioli bolliti, gallette e salsa di mele secche. Scaldati dal cibo e dal caffè bollente, cominciarono a sentire quella sensazione di aghi nella pelle che indicava il riattivarsi della circolazione. Voleva anche dire che non si erano congelati i piedi. Almanzo buttò lì che potevano essere interessati ad acquistare del frumento. Non ne vendo, disse Anderson seccamente. Il raccolto dell'anno scorso mi serve tutto da seme. Perché poi volete comprare del frumento in questo momento dell'anno? Doveterò spiegargli che i treni avevano interrotto le corse e che in paese la gente aveva fame. Ci sono donne e bambini che non vedono un pasto come si deve da prima di Natale, disse Almanzo. Bisogna che trovino qualcosa da mangiare o moriranno di fame prima che venga primavera. Ah, non mi riguarda, disse Anderson. Uno non può essere ritenuto responsabile di chi non sa badare a se stesso. Dovevano pensarci prima. Nessuno dice che uno sia responsabile e nemmeno che debba regalare niente a nessuno, ribattea Almanzo. Siamo disposti a pagare il prezzo pieno di 82 centesimi il barile e per giunta le risparmiamo anche la noia della consegna. Non ho frumento da vendere, disse Anderson e Almanzo capì che non intendeva cedere. A quel punto intervenne Cap, col suo sorriso aperto e contagioso nel viso scorticato dal gelo. Vogliamo essere onesti e parlare chiaro con lei, Anderson, e abbiamo messo le carte in tavola. La gente in paese ha bisogno di un po' di frumento, se no muore di fame. Sono disposti a pagare, si capisce, quanto vuole. Non sto cercando di tirare sul prezzo, ragazzi. Non voglio vendere, quello è il mio frumento da seme, il raccolto dell'anno prossimo. Lo vendevo l'autunno scorso se volevo vendere. A quel punto Almanzo decise, facciamo un dollaro a barile, 18 centesimi più del prezzo di mercato, e non dimentichi che le risparmiamo la consegna. Non lo vendo, disse Anderson, voglio avere il raccolto l'anno prossimo. Ma uno il frumento da seme se lo può sempre comprare, disse Almanzo come stesse ragionando tra sé. È quello che fanno quasi tutti da queste parti. Sta buttando un profitto netto di 18 centesimi il barile, signor Anderson. E come faccio io a sapere che manderanno del frumento da seme fin qua giù in tempo utile per la semina? E come fa a sapere, intervenne Cap, che avrai raccolto l'anno prossimo? Poniamo che rifiuti la nostra offerta e semini il suo frumento, può darsi che grandini, o che ci sia una terribile invasione di cavallette. Questo è vero, riconobbe Anderson. L'unica cosa di cui si può essere certi è il contante che sia in tasca quando uno ce l'ha, disse Almanzo. Anderson scosse la testa. No, non vendo. Mi sono quasi ammazzato l'estate scorsa ad arare 40 acri di terra vergine. Devo tenere il frumento per seminarlo. Almanzo e Cap si scambiarono un'occhiata e Almanzo tirò fuori il portafoglio. Senta, le diamo un dollaro e venticinque centesimi il barile, in contanti, disse, posando la pila di banconote sul tavolo. Anderson esitò, poi distosse gli occhi dal denaro. Meglio un uovo oggi che una gallina domani, osservò Cap. Suo malgrado, Anderson lanciò un'altra occhiata al mucchietto di banconote, poi si appoggiò allo schienale della sedia e tacque per qualche istante, riflettendo. In effetti, disse alla fine, potrei seminare dell'avena. Almanzo e Cap non dissero nulla. Avevano capito che era indeciso e che, se ora avesse detto di no, no sarebbe stato. Alla fine Anderson si risolse. Beh, per quel prezzo ve ne potrei dare una sessantina di barili. Almanzo e Cap balzarono in piedi. Bene, carichiamo, esclamò Cap. Abbiamo un bel po' di strada da fare. Anderson insistette perché passassero la notte lì, ma Almanzo e Cap volevano ripartire subito. Grazie allo stesso, disse Cap. Ma ultimamente abbiamo avuto sempre intervalli di un giorno solo tra una tempesta e l'altra. Ormai è mezzogiorno passato. Siamo già in ritardo e dobbiamo spicciarci. Il frumento non è in sacchi, disse Anderson. Malmanzo rispose, i sacchi li abbiamo portati noi. Corsero alla stalla. Anderson li aiutò a riempire i sacchi, che contenevano ognuno due barilli di frumento, e a caricarli sulle slitte. Mentre attaccavano i cavalli, chiesero indicazioni su come raggiungere l'altra sponda della palude, ma Anderson l'aveva attraversato una volta sola quell'inverno e la mancanza di punti di riferimento gli impedì di indicare loro dove passava d'estate. Vi dico che fareste meglio a trascorrere la notte qui, ragazzi, ripeté, ma loro lo salutarono e partirono. Non appena furono usciti dal riparo dell'alta scarpata dove era l'abitazione di Anderson, il vento gelido li investì in pieno e avevano appena cominciato ad attraversare la palude che Prince sprofondò in una sacca d'aria. Cercando di aggirare il punto pericoloso, anche il sauro di Cap si sentì mancare il terreno sotto i piedi, così di colpo che lanciò un grido spaventoso. Per qualche minuto Almanzo ebbe il suo da fare a calmare Prince, che a quell'urlo si era spaventato a sua volta. Quando potei finalmente guardare che ne era di Cap, lo vide aggrappato al morso del sauro, che folle di terrore si impennava e indietreggiava, rischiando di trascinare giù anche la slitta. Era rimasta in bilico sull'orlo e una parte del carico era scivolata a terra. «Ce la fai?» chiese Almanzo quando il sauro parve quietarsi. «Sì!» rispose Cap. E ognuno si mise al lavoro per tirare fuori il proprio cavallo. Quando lo ebbero staccato, dovettero faticare non poco per pestare la neve e schiacciare le erbe, in modo da fare un passaggio solido su cui potesse poggiare gli zoccoli. Uscirono dal buco che erano gelati fine le ossa e coperti di neve da capo a piedi. Quando i due cavalli furono fuori, li agganciarono entrambi alla slitta di Cap per tirarla indietro. Poi ci caricarono sopra i sacchi caduti. Un lavoraccio, perché pesavano 125 libri ognuno. Ce la fecero solo perché erano in due. Riattaccarono i cavalli con le dita, ormai così intirizzite, che quasi non riuscivano ad agganciare le tirelle. E di nuovo, con Almanzo in testa, ripresero cautamente il cammino. Prince sprofondò una seconda volta, ma per fortuna il sauro no, e in due lo tirarono fuori in fretta. Poi, senza ulteriori problemi, arrivarono dall'altra parte, finalmente sul terreno sicuro. Dobbiamo cercare di seguire le tracce dell'andata, credò Almanzo a Cap, fermandosi un momento. No, rispose Cap, meglio puntare dritto sul paese. Non abbiamo tempo da perdere. Gli zoccoli dei cavalli e i patini delle slitte non lasciavano tracce sulla neve ghiacciata. Gli unici segni del loro passaggio erano i buchi in cui erano sprofondati i cavalli, ma erano lontani l'uno dall'altro e comunque più a est della via diretta. Almanzo puntò dunque dritto a nord-est. La sua ombra era l'unica guida che avesse. Un'ondulazione era uguale all'altra, un tratto di palude differiva dall'altro solo per le dimensioni. Attraversare i tratti bassi e pianeggianti significava rischiare di sprofondare e perdere tempo prezioso. Tenersi sul colmo dei dossi significava allungare sensibilmente la strada. I cavalli cominciavano a dare segni di stanchezza. Li rallentava anche la paura di sentirsi mancare all'improvviso il terreno sotto i piedi. Di tanto in tanto, infatti, accadeva. Capi almanzo dovevano staccarli, tirarli fuori, attaccarli di nuovo e andavano contro vento ora. Un vento gelido, tagliente, implacabile. E andavano piano perché i cavalli ormai erano troppo stanchi per mantenere col carico che dovevano trascinarsi dietro il bel trotto che avevano tenuto all'andata. Sicché, ora, loro due non potevano correre accanto alle slitte. Dovevano limitarsi a camminare, battendo forte i piedi e picchiando le braccia contro il petto. Ma il freddo aumentava. Almanzo non sentiva più i piedi neppure quando li picchiava forte a terra e le dita della mano con cui reggeva le redini erano così irrigidite che non si aprivano più. Si mise le redini intorno alle spalle per avere le due mani libere e a ogni passo batteva le braccia. Ehi, Wilder! gli gridò Cap a un certo punto. Non stiamo puntando troppo a nord. Come fai a dirlo? rispose Almanzo. Dopo un altro tratto Prince sprofondò in un buco e se ne rimase là con la testa a china ad aspettare immobile. Almanzo lo tirò fuori. Poi salirono di nuovo sul terreno solido più alto aggirarono una palude ma dovettero scendere per attraversarne un'altra e Prince sprofondò di nuovo. Vuoi che passi in testa io? chiese Cap quando Almanzo ebbe riattaccato il cavallo per risparmiare un po' te e Prince. D'accordo disse Almanzo facciamo a turno. Da quel momento quando un cavallo sprofondava passava in testa l'altro. Il sole era ormai basso sull'orizzonte e a nord-ovest si addensava la bruma. Da quel dosso laggiù dovremmo riuscire a vedere il piopo solitario disse Almanzo. Dopo qualche istante Cap rispose sì credo anch'io ma quando furono là non videro altro che la sterminata distesa di ondulazioni bianche a perdita d'occhio e a nord-ovest una foschia scura sull'orizzonte. Almanzo e Cap guardarono laggiù poi dettero la voce ai cavalli e ripresero il cammino ma abadarono a tenere le slitte vicine. Il sole stava tramontando rosso nel cielo freddo quando videro spuntare a nord-est la cima del piopo solitario. A nord-ovest si vedeva ormai chiaramente la sottile striscia scura che annunciava una tempesta in arrivo. Sembra che non si muova disse Almanzo e da un pezzo che la guardo. Anch'io disse Cap ma è meglio dimenticarsi il freddo e risalire sulla slitta e vedere di spicciarsi. Giusto e non ci farà male un po' di riposo. Non dissero altro salvo incitare i cavalli a procedere più spediti. Cap tirava dritto su per i dossi e giù negli avallamenti sempre in faccia al vento con la testa china avanti per non prenderlo negli occhi. Andarono finché il sauro non cascò in un buco. Almanzo gli stava così vicino che non riuscì a evitare la sacca d'aria nascosta sotto la neve. Cercò di allargare all'ultimo momento ma Prince sprofondò accanto all'altro cavallo con tutto quel peso la crosta gelata cedette per intero e la slitta di Almanzo si rovesciò con tutto il carico tra la vegetazione rinsecchita sottostante. Mentre la tiravano fuori e ci risistemavano sopra i sacchi calò il buio. La neve mandava un vago chiarore era cessato il vento e non un filo d'aria turbava la quiete della notte incipiente. In cielo sopra di loro e anche a est e a sud splendevano le stelle ma a nord e a ovest il cielo era nero come la pece e quel nero avanzava inghiottendo le stelle a una a una. Si mette male disse Cap. Dovremmo quasi esserci rispose Almanzo dette la voce a Prince e ripartì. Cap lo seguì. La slitta era un'ombra massiccia che si muoveva sul vago biancore della neve. Davanti a loro il nero andava riempiendo il cielo senza alzare la voce. Almanzo e Cap incitavano i cavalli sfiniti. C'era ancora da passare la strettoia di Big Slough. Ormai non si distinguevano più né dossi né avvallamenti. Si vedeva solo a pochi passi di distanza per il chiaro della neve e il fievole lucore delle stelle. Quattro giorni di tempesta. Per tutto il giorno girando la manovella del macinino e attorcigliando fieno Laura non fece che pensare a Cap Garland a Dalmanzo Wilder che stavano attraversando la prateria sterminata in cerca di frumento per il paese affamato. Quel pomeriggio uscendo un momento con Mary a prendere una boccata d'aria scrutò a lungo l'orizzonte in cerca di quella bassa striscia nera che indicava infallibilmente l'arrivo di una tempesta. Non si vedeva nulla di allarmante ma Laura diffidava di quel sole. Era troppo brillante e le sembrava che dallo sterminato scintillio della prateria venisse un non so che di minaccioso. Era brividì. Torniamo in casa Laura disse Mary questo sole non scalda si vede la nuvola? No non c'è nessuna nuvola ma non mi piace questo tempo l'aria sembra sembra feroce. L'aria è solo aria disse Mary vuoi dire che è fredda? Non voglio dire che è fredda la rimbeccò Laura voglio dire quello che ho detto che è feroce. rientrarono in cucina dallo sgabuzzino mamma stava rammendando le calze di papà non siete state fuori molto ragazze dovreste cercare di respirare un po' di aria fresca prima che torni brutto. Arrivò anche papà e mamma mise via il lavoro e tolse la forma di pane nero dal forno mentre Laura versava in una ciotola la salsa di baccalà abbondantemente allungata con l'acqua. Ma c'è ancora della salsa magnifico disse papà sedendo a tavola aveva una gran fame per via del freddo e del fatto che aveva passato la giornata a portare a casa carichi di fieno era sempre un lavoro faticoso alla vista del cibo gli brillarono gli occhi dichiarò che il pane nero di mamma era imbattibile e che non c'era nulla di meglio da mangiarci assieme che la salsa di baccalà a sentirlo sembrava che quel pane grezzo e quel grumo di farina di frumento con un bocconcino di baccalà salato dentro fosse chissà quale prelibatezza i ragazzi hanno trovato la giornata giusta disse ho visto il buco dove uno dei loro cavalli deve essere sprofondato nella palude ma non hanno avuto difficoltà a tirarlo fuori ce la faranno a tornare pa? chiese Carrie timidamente e perché non dovrebbero? certo che ce la faranno se il tempo tiene uscì per andare nella stalla e tornò che il sole era tramontato e la luce stava scemando rapidamente vedendolo entrare dalla porta davanti sepero che era andato di là della strada a sentire se c'erano novità ma bastò un'occhiata a capire che portava brutte notizie ci risiamo disse appendendo berretto e giaccone al chiodo dietro la porta c'è una nuvola in arrivo non sono ancora tornati chiese mamma no mamma si mise a dondolare in silenzio sulla sua sedia le altre restarono lì sedute senza far nulla mentre il buio infittiva grace si era addormentata dopo un po' tutti avvicinarono la sedia alla stufa erano ancora lì in silenzio quando sentirono la casa gemere sotto l'urto delle prime raffiche papà sospirò beh eccola che arriva poi all'improvviso scosse il pugno nella direzione da cui veniva la tempesta urla maledetta urla quanto ti pare gridò ma non ci avrai siamo qui al sicuro ci hai provato tutto l'inverno ma vinceremo noi saremo ancora qui quando verrà primavera Charles Charles mormorò mamma con dolcezza è solo una tempesta ormai ci abbiamo fatto l'abitudine papà si lasciò cadere sulla sedia e dopo un attimo disse che sciocco sono Caroline per un momento mi è sembrato che questo vento fosse una cosa viva e che volesse prenderci è vero a volte sembra così disse mamma sarebbe diverso se solo riuscissi a suonare il violino borbottò papà guardandosi le mani rigide screpolate al tenue chiarore che usciva dalla griglia della stufa nei momenti difficili papà aveva sempre suonato per loro ma ora nessuno poteva fare musica per lui Laura cercò di tirarsi sul morale pensando a quello che papà aveva detto erano tutti lì insieme al sicuro avrebbe voluto fare qualcosa per allegrarlo un po' di colpo le venne in mente la frase siamo tutti qui insieme era il ritornello di una canzone possiamo cantare esclamò attaccando il motivo a mezza voce papà si riscosse subito ci sei Laura ma l'hai presa un po' troppo alta scendi di un tono Laura ricominciò e tutti si misero a cantare con lei prima papà e poi gli altri Laura si era alzata in piedi e Carrie l'aveva imitata siamo tutti qui insieme insieme qui siamo non farti del male stai in allegria siamo tutte qui insieme insieme qui siamo il malumore caccialo via una cantava l'altra pregava non farti del male stai in allegria se denaro potesse la fede comprare non farti del male stai in allegria il ricco vivrebbe il povero no il malumore caccialo via e perfino Grace che si era svegliata si era messa a cantare con tutte le sue forze brave disse papà poi attaccò anche lui con voce da basso non serve piangere no 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 non serve piangere non buttatevi giù così cantavano quando le voci tacquero la tempesta parve a canirsi più di prima sembrava davvero una grande belva furiosa che attaccasse la casa scuotendola tutta ringhiando e ruggendo e urlando contro le povere pareti tremanti che usavano contrastarla dopo qualche istante papà riprese a cantare erano note solenniche ben si addicevano al senso di gratitudine che ognuno sentiva in cuore e poi fu mamma a intonare un canto quando so che mi aspetta una dimora nei cieli si allontana ogni timore lascia il mio cuore ogni dolore e poi che si fa la mia cieli è una dimora la mia cieli è una dimora che si fa la mia cieli